Cari pellegrini, verrebbe da formulare un auspicio, una preghiera, che è questa. Signore, quando tu vorrai, quando tu lo riterrai opportuno, donaci un Papa giovane, e perché no, anche un Papa giovanilista. Ora può sembrare strano un auspicio di questo tipo, soprattutto sentirlo da noi, che veniamo etichettati come tradizionalisti, come fedeli alla tradizione cattolica, e questo ovviamente non può che farci piacere. Per cui sentire da noi un auspicio di questo tipo può sembrare un po' strano. In realtà, vedete, non è affatto strano. Quando il Signore vorrà, chiediamo che ci dia un Papa che sappia effettivamente scorgere quelli che sono i segni dei tempi. Un Papa giovane e anche, perché no, giovanilista. Ora, Papa Francesco, ovviamente, per il quale noi preghiamo, Papa Francesco insiste su alcune tematiche, proprio costantemente, puntualmente. Attacca il cosiddetto clericalismo, che scaturirebbe dalla mondanità spirituale. E noi sappiamo bene che il vero clericalismo non è quando il sacerdote fa il sacerdote e quindi fa da pontifex, indicando quello che è la strada per il paradiso, secondo la nota espressione del santo curato d'Ars, ma il clericalismo è quando il sacerdote tradisce il suo dovere di stato e rivolge tutte le sue attenzioni, trasformandosi in una sorta di tribuno della plebe, una sorta di tribuno di quelle che sono le battaglie tipicamente mondane, cioè del mondo. Allora sì che il sacerdote diventa di fatto clericalista, perché ovviamente non ha nessuna competenza in merito a queste battaglie. Quindi il clericalismo è la trasformazione del sacerdote che tradisce quello che invece è la sua vocazione, la vocazione appunto a indicare la strada per il cielo e a fare in modo che le anime possono salvarsi e andare in paradiso. Papa Francesco insiste molto su questo fatto che oggi il grande pericolo sarebbe il clericalismo proveniente che scaturisce dalla mondanità spirituale, è il rigorismo, è il cosiddetto cristianesimo ideologico, i cristiani ideologici eccetera e così via. Ora questo rigorismo dove sta? Vorrei tanto conoscere nome e cognome di sacerdoti che insistono sul rigore e quindi sul rispetto di quelli che sono i dieci comandamenti. Adesso proprio in questi giorni si sta parlando molto del fatto che il quotidiano avvenire, che è un quotidiano che ormai ha tradito da tempo, il quotidiano avvenire ha pubblicato un articolo con il titolo, e teniamo presente che poi molti lettori si limitano semplicemente a leggere i titoli, con il titolo della testimonianza dei due conviventi, cioè quando noi abbiamo iniziato a convivere stiamo pregando di più, che farebbe capire che la convivenza potrebbe avere anche una sua positività. E allora quando Papa Francesco insiste e dice che oggi i gravi problemi sono il clericalismo proveniente dalla mondanità, che scaturisce dalla mondanità spirituale, dove sta poi questa mondanità spirituale, torno a ripetere, vorrei avere nomi e cognomi di tutti questi sacerdoti che parlano dei Novissimi, che durante l'Omeria parlano dell'Inferno, del Purgatorio, del Paradiso, che parlano della Grazia, che parlano affermando che il peccato mortale è il problema più grave. Io non li vedo, sinceramente, tutti questi sacerdoti. Papa Francesco dice che questi sono le urgenze, evitare la mondanità spirituale, evitare il clericalismo che scaturirebbe dalla mondanità spirituale, evitare il rigorismo, eccetera. Allora tutto questo, vedete, cosa significa? Significa che si è un po' distaccati dalla realtà. Ed ora ecco perché provocatoriamente, certo si tratta di una provocazione, c'è da uspicare che il Signore ci possa donare un Papa giovane, cioè un Papa che sappia effettivamente capire quelli che sono i segni dei tempi. Perché paradossalmente parlando, questa Chiesa che rincorre il mondo, questa Chiesa che sembra, come dire, formulare, impostare, modellare la sua postorale, tenendo presente quelli che sono i dati statistici, i dati sociologici, invece si mostra una Chiesa sempre più distaccata dalla realtà. Segue il mondo, però dimentica di osservare attentamente la realtà. Per cui paradossalmente indica dei problemi che sono un po' come i mulini a vento che venivano visti come giganti da Don Quixote. Cioè ci troviamo all'interno di una prospettiva che è tecnicamente un po' una prospettiva di alienazione, cioè di non attenzione a quelli che sono i veri problemi che attanagliano la Chiesa e quindi l'annuncio cristiano oggi. Abbiamo completamente perso i giovani e noi crediamo che i problemi gravi siano il clericalismo che scaturirebbe dalla mondanità spirituale, e non è così, e il rigorismo. Dove sono effettivamente questi sacerdoti così rigoristi e che così concentrati sulla dimensione spirituale, sulla vita spirituale, io sinceramente non li scorgo. Allora questo che cosa significa? Significa che non si è attenti alla realtà. Ed ecco perché viene da auspicare che il Signore quando vorrà ci dia un Papa effettivamente giovane, cioè un Papa che cerchi di capire quelli che sono effettivamente i segni dei tempi. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo video. Vi saluto caramente ricordandovi sempre che Dio è verità, bontà e bellezza. Grazie a tutti.